Come è il mercato dell'Aerospace? Di dare una serie di informazioni in più sull'andamento del mercato, ad esempio stiamo vedendo che comunque ci sono molte più richieste, noi ci occupiamo di fornitura di materie prime, per cui siamo proprio alla base di tutto quello che c'è nella produzione e nella costruzione dei particolari. Siamo tutti quanti speranzosi, l'andamento è positivo, c'è una bella affluenza, ci sono degli ottimi contatti e soprattutto c'è anche l'iniziativa di fare contratti a lungo termine, cosa che fino a un anno fa non si riusciva più neanche a fare perché non c'era visibilità. Lo speriamo, speriamo veramente che ci porti a una ripresa. Grazie 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 Grazie